Quando in Italia si pensa ai giochi sportivi, i primi titoli che vengono in mente sono sempre quelli dedicati al calcio o al basket. Ma se si va oltre FIFA o NBA Live, si scopre che il mondo dei giochi sportivi è molto ricco. Steep, la proposta di Ubisoft agli sport invernali estremi, che, vestendo i panni dell'atleta Sam Berger, porta il giocatore a sciare per le fantastiche vette delle Alpi. Sciare è in realtà un termine riduttivo per descrivere Steep. Oltre ai classici sci e snowboard, è infatti possibile cimentarsi anche in epiche sfide aeree con la tuta l'are o il paracadute. Per quanto snowboard e sci siano fra loro simili in termini di sfide, ogni disciplina è in realtà unica e ben diversificata grazie a una fisica di gioco estremamente curata capace di destituire un feedback molto differente a seconda dello strumento usato. Curvare con gli sci è molto diverso che curvare con lo snowboard, così come diversa la precisione richiesta nelle fasi di volo con la tuta l'are o con il paracadute. Ogni disciplina richiede una certa attenzione e ci vuole un po' prima di prendere confidenza con ognuna di esse, ma una volta imparato a sciare e volare, lanciarsi a tutta velocità nelle numerose arduo e sfide proposte è un vero piacere. L'ottimo gameplay, la stupenda grafica e la totale libertà di esplorazione rendono Steep un'esperienza adatta a tutti. Perdersi nell'esplorazione dei bellissimi paesaggi alpini è piacevole e rilassante, ma quando ci si stufa e si avoglia di adrenalina, le tantissime missioni mettono a dura prova anche gli sciatori più esperti. La nostra valutazione finale per Steep è 76 su 100. Per la recensione completa trovate il link in descrizione. Grazie per averci seguito, alla prossima!